Una rete di università che vengono raccolte sotto un cappello che si chiama Stone Academy, così l'abbiamo chiamata, nel momento in cui ci si può confrontare tutti assieme e vedere gli sviluppi nella progettazione architettonica, nel design e nelle tecnologie che ci possono portare forse dell'innovazione. Perché è nato tutto questo? Perché assieme a Marmomac, già dal 2004, abbiamo cominciato un percorso, prima di tutto col Politecnico di Milano, formativo all'interno delle università, che potesse poi sfociare anche nell'aggiornamento professionale. Questa architettura è fatta integralmente in elementi di scarto. Abbiamo voluto rappresentare il rapporto con la tradizione tutta italiana, l'evoluzione quindi dalla massa all'elemento di paramento, all'elemento sottile, fino ad arrivare alla contemporaneità in cui tutto è possibile, con queste curve molto fluide che sembrano sfuggire quasi dalla superficie. In ultimo, questo elemento monolitico che si intravede dietro gli alberi, un grande prigioniero che esce dal blocco che, se passate forse di sera, lo potrete vedere illuminato come una grande lanterna che illumina, a mio avviso, potrebbe illuminare il futuro della progettazione in pietra. Grazie a Marmomac siamo stati in grado di consolidare fin dalle origini un rapporto molto stretto con il territorio veneto e veronese. Penso che forse molti lo sappiano già, ma in realtà Verona, nella sua provincia, raccoglie il distretto più importante al mondo per la trasformazione del materiale lapidio e ancora oggi lo è. Lo è grazie al know-how, alle tecnologie e alle aziende che si adoperano in questo settore.